Tra i giovani toscani la paura prevalente è quella del futuro. In sintesi è questo il dato più rilevante dello studio che l'Ordine degli psicologi della Toscana ha condotto tra i suoi iscritti. Oltre a ciò, nella fascia 20-30 emergono anche il timore dell'abbandono e della solitudine al 48% e quello per le malattie o la morte al 45%. La fascia d'età in cui si rileva una maggiore paura per la guerra è quella dei bambini. Ma non mancano l'abuso digitale, i disturbi del sonno e i problemi relazionali. L'indagine ha preso in esame il periodo marzo 22 marzo 2023, momenti caratterizzati dalla lenta fuoriuscita dalla pandemia, dallo spettro della crisi energetica e dalla guerra in Ucraina. Fattori che hanno alimentato disturbi come l'ansia, la depressione, le fobie sociali e scolari, i disturbi del comportamento alimentare. Come sempre la ricerca utilizza il metodo del questionario compilato dai 1112 iscritti all'ordine in tutte le province toscane. Siamo molto preoccupati, dobbiamo intervenire perché le paure si affrontano, si ascoltano e l'ascolto deve essere quello competente della famiglia che deve essere supportata perché anche la famiglia sta in una situazione precaria, non è che le famiglie, i genitori si trovano in una situazione avulsa da quello che è successo durante il covid. Quindi aiutiamo le persone, ascoltiamo i nostri giovani e quindi è importante intervenire tempestivamente, precocemente in prevenzione per evitare che questa paura diventi poi ansia, depressione e tutta quella sintomatologia che l'indagine raccoglie.